Benvenuti in questo nuovo video di Among Us Quest'oggi giochiamo ma ogni tutto e tempo cambia i vestiti e il colore è totalmente a caso Attirerò un sacco di sospetti con questa cosa Tra l'altro se uno pensa ah magari l'assassino è il rosso E a me cambia il colore e divento rosso rischio pure un sacco Quindi devo stare veramente super mega attento Allora, navigation Ma due morti così? Allora, ho segnato io, avevo nato a fianco Eravamo a navigation Io stavo cercando il cadavere Bravissima, non c'è il cadavere Ti ricordi che l'ho detto anche nella partita precedente? Ma quindi c'è un bug in navigation? Bravo, chi muore a navigation è invisibile, raga, due volte Io prima non l'ho visto, è la stessa cosa Nol, vabbè Stranissimo Vabbè, comunque quindi c'eravamo io che noi è nato lì Stavo cercando il cadavere per capire dove fosse morto Però non lo trovavo Esattamente Avete trovato, cioè avete visto il report voi Sì, ho visto solo il report Non ho visto il corpo E l'altro era nato, nato hai visto qualcosa? Nat? Nat non ha visto nulla Aia, Nat non parla Aia È Nat, raga No, sto scherzando Ok, ok, Nat Tutti e tre, vabbè Raga, non c'è il corpo, skip Che dobbiamo fare? Vabbè, qui in due secondi Già due persone morte No, avevo l'albero di Natale in testa Era carinissimo Mi si è già tolto Mannaggia Allora No, Reactor non lo faccio Mi rifiuto La faccio quando morirò Uno, due, tre Non hai capito? Che tanto te lo dico perché non ho più voglia di vivere oggi Ahà Che il bug in navigation mi ha salvato Sì? Ho fatto una kill bruttissima Che Noia mi è passata di fronte E non aveva notato il cadavere Quindi mi ha salvato Va bene Sì Io non lo sapevo di sto bug ovviamente Allora Mi ha totalmente salvato Non so che dirti Ci pensa che Noia? Io non voglio più fare l'impostore in sto gioco Steph Ti regalo il mio pc Basta Io voglio fare un'accusa Se che Noia mi segue un attimo Io voglio fare un'accusa Verso chi? Verso Nat Allora Povero Nat Aspetta, 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 aspetta Che succede? Allora Che poi è Steph che cambia colore ogni due secondi Oh ma non è bene Ti dicevo chi è il viola che ha chiamato E era Steph Signori Devo dire delle cose A parte che è morto qualcuno Ma non sappiamo dove Però C'è stata l'emergenza communication Sono andato con Che Noia Che Noia safe al 100% Perché da due ore che la vede in giro E non fa mai nulla Ma Che Noia Hai notato che è arrivata a un certo punto Così A controllare un pochino la situazione Io ho andato Per vedere communication Per vedere Se Stava andando qualcuno A falla Sono tanti come Il sospetto di voi due Eh beh sì Ecco qua Perere anche vicino a navigation Nel cadavere Nat Quindi non mi sono avvicinato Me ne sono andato subito Voi avete iniziato a seguirmi Tutti e due Io l'ho fatto Ma in realtà Stava andando a caffè Io Sbaglio affari miei Mai che l'abbiamo seguito Io non è Nat Io non è Nat Sappiamo chi è Io peccato Io non sono Li stavo tenendo sotto controllo Cioè sott'occhio Cioè io non sono questo Sott'olio Però magicamente Era pure navigation Quando c'era il conto Raga io non voterei mai Nat Perché è stato con me Un sacco di volte Faceva le task Quindi non può essere Nat Io non l'ho visto quasi mai Quindi Io ho visto Steph In reattori Poi non l'ho più visto Io ero con Kenoglia Lì giù Ed è arrivato lui A controllare Come per dire Ah faccia la kill La vicenda forse Vedi Non so No raga Io Ok Martina Sei la prossima La sappiamo tutti La regola Perché facciamo così ogni volta Steph Perché Fere impostore Per far vincere Fere Ho deciso di prendermela Sì ma l'ho detto che lo sono Cioè io sono stanca Di essere un impostor Steph Basta Non lo posso più Guarda li ammazzo più così Io cominciando a uccidere Nat Ogni volta Eh infatti Alla fine Vabbè No io oggi Te l'ho detto Non volevo farlo E non lo voglio fare Ai 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 Pensa a vincere Ta 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 Sto facendo le mie tasche Sono diventato una renna Che carino Ovviamente il mio obiettivo di oggi Ragazzi è diventare impostore Con questa cosa Che cambio costantemente aspetto Che Allora io ho provato ad andare Ed elettrica Ma c'è davvero troppa gente Tu 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 Buongiorno Buongiorno Salve a tutti Allora non posso ancora sabotare Steph fammi perdere Io non ho Questo l'abbiamo fatto Non lo voglio Hanno sabotato Sono stata io Wow Wow Che cazziveria Vediamo se bacco qualcuno Ok Poi One Two Three Ta 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 Ok ho quasi finito le mie tasche Non è vero Me ne mancano un botto Non c'è nessuno qui Mannaggia Ah Ah eri tu Stavo per premere kill Aiuto Perché cambi colore costantemente Steph mi stai confondendo Ci sono le telecamere accese Occhio Allora infatti sto qui con te Facciamo finta di camminare assieme Va Così mi faccio un alibi Devi killare qualcuno qua giù Ah lo so C'è che noia Si sta arrivando incontro Ok l'ho più killato Perfetto Chiama il corpo Chiama il corpo Vai 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 L'hai fatto? Pesante Aia Chi ha chiamato cosa? Io ho trovato il corpo di che noia Ok Tutto a destra in navigation Quindi ragazzi Fatti un attimo Fatti un attimo uno più uno Per favore Dato che siamo solo in cinque Se io ero con che noia E che noia è morta Ci siamo uccisi Posso dire una cosa Io ero in telecamere E stavo spiegando te Martina E Martina è stata Ben otto secondi giusti Fermi al download Quindi stavo per dirvi Guardate che Martina è pulita L'avete uccisa Però MarciBuddy Tra di voi Io ero in security Io ero di fianco a lui Di fianco a me Non hai visto Delle telecamere No non ti ho visto Aia 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 Io ero in telecamere Abbiamo perso Se non era Fabio Raga Perchere Che chi era? Che avevo detto Raga siete gli unici Io l'ho detto raga Io prima che si chiudesse La prima call Ho detto raga Secondo me è Buddy Mi ha tranciato la testa Madonna Ha eliminato subito Le prove almeno Vabbè Vere mi vuoi segnalare? Grazie Interessante Ok Allora Io stavo camminando Non vedevo una ceppa Però mi è comparso Il tasto report Ed evidentemente C'era il cadavere di Steph È morto Steph Ok Non avevo visto Ed ero in Weep Ma ero in viola È tornato vivo Ma è tornato vivo Ma che c'è Ma Oh non la so neanche io Sta roba raga Non ne so niente Ma dato che sono vivo Posso parlare? Sì Puoi parlare Ok Ti prego No Steph No Io mi fido È Nat È Nat Mi risocio L'ho fatto solo perché è Nat No Steph No Vabbè Era impostore davvero Nat Sì No L'altro impostore rimane da sola Adesso Sì ma loco poverino Ogni volta muore Dai Nat Ormai sei morto Nat sei morto Vabbè dai Steph vota Non posso votare No Nat Vabbè votiamo Steph Era morto Raga dai Se torniamo Tornarei dal mondo dei morti È uscito totalmente Scappato Vabbè Steph è l'unico Ad essere morto Due volte in un turno Ma perché è un skin Steph Faccio reggiquittare un impostore E non comunque un pink bait Dai per esagerato Stavolta Porca miseria Ma povero Reggiquittato Fere Era un po' troppo Che fere Corazzo Aspetta Devo finire di trollare Ormai a sto punto Oh mio Ti vengono No Steph No Signori L'aspetti L'aspetti Ragazzi io continuo a dirlo Mi dissocio e lo voto pure io Non ne so nulla Basta Chi stiamo votando Signori A te Tutti te Stiamo votando Vai via da questa Unplend Da questa nave Vai via Con l'unplend Ti butta fuori dalla partita Ma hai cambiato di nuovo Non dirmi che puoi torna in vita Certo Come certo Devi smetterla Steph Hai fatto scappare il povero Nat Mi vedi Poi ti vuoi scusare No non ti vedo Non ti voglio vedere Perché sto cambiando sempre vestito Poi Cosa Aspetta Oh mio dio Sto finendo Io sto facendo le mie task Arrangiati Non è possibile Ah Mamma mia Non è possibile Mi sono capitati i fili tutti dritti Ti sono mai capitati? Sì una volta Bellissimo O forse 3 su 4 Tipo 3 su 4 Nat scusami Io ti voglio bene No no Ormai è andata Scusa Nat Ti ha bloccato anche su Whatsapp Ormai è andata Mannaggia Allora Però sei troppo cattivo Dai Sì era veramente terribile L'avresti fatto contro di me Era veramente troppo Ti avrei insultato io Ai 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 3 4 Cacc intellectually Pi 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 Questa era tornata in vita Per votarlo Ok È tornato in vita Steph Raga ma dovremmo trovare Signori Dovete pensare All'imposta Sono morto Sono morto Scusate Possiamo trovare Gli impostori Ragazzi Ho fatto le task Ho fatto gdy Raga Apponzo Ho raga Come è morto Con me è Steph Andiamo Aspetta Aspetta che si dice Non è Steph Non ha più il regalo in testa Niente, è un cowboy adesso No, aiuta Cioè, la svolta sarebbe Se alla fine lo becchiamo Che è lui Si smiccia Ai, 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 ai Allora Ferre, è tutto bene lì? Sì L'impostore nessuno la cerca ormai Ma infatti, cioè Probabilmente io ci muoio C'è uno che mi segue Aiuto Ok Ho finito le task? Sono morta Mi stanno a seguire Steph Sono morta Addio, Ferre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sono morta Sicuro Aiuto Ma perché tu dà quest'ansia? C'è solo un assassino Ferre Non lo so, c'ho paura Ok, io ho finito le task Vabbè Chi è stato, ragazzi? Ma povera Lore Allora non è Steph, ragazzi Sta solo trollando Torna in vita Dobbiamo trovare l'impostore L'impostore è rimasto È stato o Vesicchio o Marci, raga È stato o Vesicchio o Marci Ma non è vero, io Eravamo in security Io Vesicchio Io avevo le telecamere accese, raga E allora è stato Vesicchio No, no, no Io stavo guardando le telecamere E allora è stato Marci Allora è stata tu Sei stato Ma che dici? Ma che cosa? No, io sono stata un sacco di volte Da sola con Vesicchio Ma guarda Io non so stato Stam partita c'è già troppe cose strane Ma io non vedo nulla di strano in sta partita Oh, sono vivo Grazie Non è bisogno di tornare in vita Non saprà vissuto Allora Ah, vabbè Qui facciamo vincere l'impostore Ma se continuiamo così Sì Per forza Eccoci Ecco qua Eh, vabbè Nessuno ci sta pensato Ho pensato a te Tu hai capito chi è? Io ho dei sospetti Ti dico la verità Ok Su Vesicchio Anch'io ho iniziato a avere sospetti su di lui, eh Non lo so L'abbiamo fatta l'emergenza, sì? Sì Perfetto Però siamo tutti qui Non lo so Mi stavo seguendo in modo strano Che che poi Ci hanno chiuso le porte Sì, ci hanno chiuso le porte Bravissimo Bravo, Steffa Bravo, bravo L'ho capito subito Ma davvero era Marci? Perché non lo votate mai, Steffi? Mannaggia Non mi ha votato Steffa Solo se non mi seguite mai Non mi ha votato